Bentornati a tutti. Oggi è giovedì, 7 marzo 2024. Di seguito la previsione dell'oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo Cancro. Sul chi vala per colpa della luna. Anche dal segno opposto la luna vi dichiara simpatia, promettendovi più tenerezza in coppia e magari anche un nuovo partner se col vecchio siete ormai alla resa dei conti. Il problema casomai sono i vostri sensi di colpa e i cambi repentini di idea, emozioni pesanti, come gelosia e rancore, che abbattono l'energia, riescono quasi a imbruttirvi offuscandovi lo sguardo. Fondamentale chiarire su vari livelli, col partner, coi figli e anche coi parenti, sempre pronti a giudicarvi senza conoscere la realtà dei fatti, ma in questo, come aiutanti avrete la sagacia del sole, Mercurio e Nettuno intrigono dalla vostra. Novità sul lavoro a cui adeguarvi subito, se in questo gran gioco del monopoli che è diventato il nostro mondo non volete perdere un giro si sgobba ugualmente anche quando ci si sente spappolati. La paura di restare soli come conseguenza di una separazione improvvisa è enorme, c'è angoscia e un inizio di solitudine importante. Al tutto contribuisce anche uno stato di salute incerto e in sofferenza. L'amore comunque necessita di una sana rigenerazione e bisogna far pulizia di tutto ciò che vi fa soffrire. Il periodo che vi aspetta non contribuirà certo alla vostra tranquillità e serenità e dovrete davvero lottare molto e intensamente per ottenere una vita migliore. I nati di Venverdi troveranno nel partner un valido aiuto, spesso vi è sembrato distante, ma mai come oggi proverete quanto reale Mnete vi ami e vi sia vicino. Se sentite il vostro partner molto esigente, rendetevi conto che forse vuole solo spronravi a fare meglio e a dare il meglio di voi stessi. Un'amica potrebbe aver bisogno di voi. Datevi da fare per sostenerla in questo momento piuttosto critico. Non litigate oggi con nessuno, la cosa potrebbe prendere una piega di quelle che lasciano il segno. Oggi potreste tentare moderatamente la fortuna, la giornata non sarà tra le migliori, tuttavia piccoli colpi di fortuna potrebbero renderla meno pesante. Non abbiate paura di affrontare alcuni argomenti delicati con il vostro partner o con chi vi sta a cuore. Certi chiarimenti sono necessari ed è meglio prima che poi. Preparativi in vista di un chiarimento con una persona che vi interessa, sappiate tuttavia a trovare la calma necessaria per ottenere il riconoscimento delle vostre valide ragioni. In famiglia c'è qualche discussione di troppo. Cercate di appianare, per quanto possibile, ogni discussione. Non siate aggressivi, indispettireste solo i vostri cari. Troppo tempo a cellulare vi faranno perdere il gusto della vita e creeranno un certo disordine facendovi perdere il gusto dei contatti diretti con le persone. Palcoscenico astrale che vede diversi pianeti che vi sorridono. Certi comportamenti, tuttavia un po' rozzi, certi atteggiamenti spartani da parte dell'ambiente circostante, degli amici, ma anche dei familiari o dei conviventi, possono irritirvi o indispettirvi oggi, specie se siete nati nella terza decade. Inoltre tenete sotto controllo la salute, i mali di stagione come raffreddori, influenze, allergie di primavera potrebbero essere in agguato, in specie al modo se festeggiate il vostro compleanno dal giorno 26 al 30 del mese di giugno e dal giorno 5 all'11 del mese di luglio. In angolo dissonante dal segno vostro avversario tecnicamente, nella vita però amico prezioso, del capricorno troviamo ancora la luna. La luna in capricorno vi rema contro, ricordandovi che cosa sia la logica, una dote che a quanto pare in voi risulta carente, esattamente come a lei manca la vostra sensibilità. Buoni mediatori tra voi e il partner, il socio o chiunque vi fronteggi muovendovi critiche, l'amico urano dal toro e il trio mercurio sole nettuno dal segno acquatico dei pesci intrigono al vostro e dunque come il vostro fluido e versatile, refrattario a prendere posizioni drastiche finché non può avvertire una situazione di pancia. Amore ed eros. La freddezza che addebitate al partner è pura immaginazione, avete trovato la persona giusta o state per incontrarla, fidatevi della prima impressione non sbaglierete. Voglia di romanticismo ma anche di progettualità, se il partner vi rimbecca diventate polemici, ma proprio attraverso il confronto rimodellate i vostri comportamenti migliorando la qualità dell'intesa. Ritrovate il punto d'incontro con la vostra o il vostro partner, a proposito della programmazione e dell'organizzazione di una prossima futura vacanza estiva. L'accordo che riuscite a raggiungere, per via dei diversi impegni lavorativi e familiari reciproci, sarà a lungo e forse anche faticoso, ma, alla fine soddisferà entrambi. Avventure a ripetizione e confermi del fascino per i nati dal 12 al 16 di luglio. Lavoro e denaro. Allontanarvi almeno di qualche passo da chi vi contrasta vi aiuterà a focalizzare meglio il problema e la strategia necessaria per risolverlo, una trasferta, un breve viaggio di affari o di studio vi offrirà l'occasione giusta per farvi desiderare un po'. Unico neo l'eccesso di zelo, che in caso di inesperienza rischia di combinare guai. Siate più equilibrati. Se svolgete una professione legata al mondo dell'arte, della cultura, della comunicazione, avendo voi mercurio e sole, i vostri nomi tutelari, in posizione buona, lanciatevi a dovere nelle vostre mosse tattiche. Benessere. Se lo stomaco dà segnali di scontento è perché mangiate troppo in fretta. La gola vi tradisce, a cena con gli occhi fissi al telegiornale trangugiate in fretta il pasto per fare altro. Avete bisogno di staccare la mente e rilassarvi un po'. Denaro. Sono per voi oggi vietate le speculazioni e le manovre economiche che potrebbero trovarsi sul vostro cammino. La luna è ancora in angolo dissonante dunque state bene zitti e buoni. Per lei, rassicurazioni dai vicini circa il chiasso che fanno i vostri figli, vero che sono un po' esagitati, ma così carini. Per lui, al volante potete fidarvi di voi stessi ma non degli altri automobilisti. Attenti, c'è qualche saltato in circolazione. Colore delle emozioni, barbabietola. Barometro dell'umore, piovoso. Pagellina del giorno. Sentimenti, 6, attività, 5, finanze, 7, benessere, 5. Grazie per aver guardato il video. Se trovi il video interessante e utile, non dimenticare di premere il pulsante mi piace, sarà per me una grande fonte di motivazione per realizzare più video di qualità. Ci vediamo.